Ok, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova lezione di TDP. Oggi vedremo un esercizio in cui cercheremo di impratichirci un po' con il pattern Model View Controller, che dovreste aver visto nelle scorse lezioni. Ma prima di iniziare l'esercizio vero e proprio, vorrei fare con voi tutti i passi che servono per importare un progetto da GitHub, procedimento che dovrete svolgere molte volte durante questo corso, ad esempio in laboratorio, e quindi se qualcuno ha ancora dei dubbi, li possiamo risolvere insieme. Io in particolare ho cancellato il mio progetto da Eclipse, quindi il mio Eclipse adesso è vuoto. L'esercizio che faremo è indovina il numero, cioè cercheremo di tradurre l'esercizio che abbiamo fatto nelle scorse lezioni secondo il pattern Model View Controller. Quindi sono su GitHub e sul progetto indovina il numero. Cosa posso fare per importare questo progetto in locale sul mio PC? Allora, qui c'è un'unica differenza tra me e voi, diciamo così, che io ho i permessi di scrittura sull'organizzazione TDP 2021, voi no, e quindi voi dovreste fare un passaggio in più rispetto a me, dovreste prima fare il fork di questo progetto che si trova, come vedete, nell'organizzazione TDP 2021. Cosa fa il fork? In sostanza crea una copia di questo repository nel vostro namespace. Fatto ciò, potete copiarvi dal vostro fork, ovviamente, l'indirizzo HTTP del repository, lo trovate qui in code e io lo copio. Fatto questo potete aprire Eclipse e importare questo progetto. Come facciamo? File. Ovviamente non andiamo a creare un nuovo progetto, ma vogliamo importarne uno esistente, quindi clicco su Import. Scrivo qui nella barra di ricerca Git per trovare Projects from Git. D'accordo? Clicco su Next. Qui posso selezionare Clone. Dobbiamo clonare il repository. Come vedete, in automatico il mio PC mi ha già riempito tutti i campi dopo aver fatto la copia, quindi va benissimo. Questo è il mio username di GitHub, questa è la mia password. Niente, possiamo fare Next. Al momento c'è un solo branch. Vediamo tra un attimo il concetto di branch. Il branch master. Lo seleziono. Questa è la directory dove verrà posto il progetto. Come vedete, in questo caso non sarà posto nel mio workspace, ma in una particolare cartella chiamata Git. Qui sta a voi decidere dove andarlo a mettere. Io mi trovo bene con la cartella Git, dove so che ci sono tutti i progetti importati. Alessio chiede, lo eliminiamo anche noi, come volete, se è indifferente. Se siete già capaci a fare questa procedura, non è necessario. Next. Next. E direi finish. E lui si scarica il progetto, indovina il numero e lo riporta qui nel mio Eclipse. Come vediamo, ci sono le classi che avevamo già creato. Se io provo a lanciare il main, dovremmo, in teoria, riportarci alla versione della scorsa volta. Eccolo qua. Ci siamo. D'accordo? Alessandro chiede, può magari aggiungere nel nome MWC così da distinguerlo da quello vecchio? Ecco, no. Non cambiamo il nome, ma vediamo un modo di procedere. Allora, noi abbiamo qui adesso il nostro progetto, che abbiamo svolto la scorsa volta. Vogliamo ristrutturare questo progetto appunto col pattern MWC. Ma non vogliamo buttare via quello che abbiamo fatto, perché magari ci potrà servire in futuro. Ora, in questo caso magari no, perché ovviamente la versione MWC è quella, diciamo così, più corretta. Però può sempre capitare che non vogliamo buttare via quello che abbiamo fatto. Come possiamo fare? Possiamo creare un nuovo branch. Che cos'è un branch? Un branch è un universo parallelo, dove possiamo partire da un determinato punto, in questo caso dal programma che abbiamo fatto. Ok? Quindi partiamo da lì in quel branch, senza però toccare gli altri branch, cioè il programma che avevamo già fatto. In questo momento il nostro programma sta nel branch master. Vedete qui vicino a indovina numero c'è la scritta master. Vuol dire che tutto quello che abbiamo fatto sta in quel branch lì. Noi possiamo da qui creare un branch parallelo, dove potremo modificare il nostro programma senza sporcare il branch master. Sarà una cosa che utilizzeremo anche ad esempio per pubblicare le soluzioni dei laboratori. Avremo il branch master che conterrà il progetto base, diciamo così, del laboratorio da cui voi partite a lavorare. E poi ci sarà un branch soluzione che conterrà la soluzione degli esercizi. Come facciamo a creare un branch che parta di qui? Tasto destro, il menu team, quello che abbiamo imparato a utilizzare per Git. Switch to new branch. Ok? Clicchiamo. Possiamo dare un nome al nostro branch, chiamiamolo ad esempio refactoring mvc. E poi possiamo anche cliccare su questa spunta, cioè configuriamo questo branch come quello di default per i nostri successivi push e pull. Cioè noi ora sappiamo che andremo a lavorare lì, allora non vogliamo fare più push sul branch master, lo lasciamo così com'è per adesso, ma faremo push e pull in questo nuovo branch. Finish. Vedete? Qui in alto è cambiata la scritta, non siamo più nel branch master, ma in quello refactoring mvc e tutto quello che scriviamo da adesso in poi non va a inficiare il branch master. Può far rivedere la procedura per il branch? Certamente, tasto destro sul vostro progetto, team, switch to new branch. A questo punto qui date un nome al nuovo branch, io non ne creo più un altro perché l'ho già fatto, ma potete dare il nome che volete, e poi lo configurate come default. Da adesso in poi lavoriamo su quel branch. Ovviamente si può sempre tornare indietro. Alessandro chiede, ma questo su vecchio programma o quello nuovo, in che senso? Non ho capito. Sul vecchio programma, cioè io ho importato il vecchio programma, ok? Quello che abbiamo fatto la lezione scorsa, due lezioni fa. Quindi quello era il vecchio programma. Su di esso faccio tasto destro e creo un nuovo branch, se è questo quello che intendevi. Quindi ora possiamo modificare veramente a piacere senza aver paura di perdere niente, perché in teoria possiamo sempre tornare indietro alla versione che avevamo. Chiara chiede, quindi noi su repository avremo comunque una copia del master che avevamo fatto precedentemente. È come se fossero proprio due mondi paralleli. Lorenzo chiede, configure upstream, va messo il check? Beh, se vuoi sì, sarebbe comodo perché in questo modo lo configuri come il default. Cioè quando noi andremo a fare commit di quello che abbiamo fatto, se quella spunta è checcata, andiamo direttamente a fare il commit sul branch giusto, sul branch nuovo. Celeste chiede, a me prima di fare finish dice, problem, a resource exists with a different case, indovina il numero. Esatto, avevo su Eclipse il progetto svolto insieme qualche lezione fa. Ok, ovviamente io l'ho reimportato, ma prima di farlo l'ho cancellato. Ok, quindi bisogna cancellarlo sia da Eclipse che dalla cartella del workspace. Perché se non lo cancelli ovviamente dà conflitto, ma non siete obbligati a cancellarlo, era solo per farvi vedere come funziona la registrazione. Ok, possiamo ricominciare. Scusate per l'interruzione. Andiamo avanti col codice. Se avete problemi con i branch magari li risolviamo poi dopo la lezione offline. D'accordo, torniamo al nostro pattern model view controller. Dobbiamo appunto modificare il nostro esercizio tenendo conto di questo pattern. Innanzitutto a cosa servono i pattern di programmazione? Beh, servono a sviluppare del codice che sia ben scritto, soprattutto manutenibile e riutilizzabile. Ok, in particolare il pattern model view controller ci permette di disaccoppiare la logica del programma dall'interfaccia grafica. Come abbiamo visto la scorsa volta, la scorsa volta avevamo mischiato tutto dentro un unico file, dentro il file controller. Il problema è che per esercizi più complicati, per programmi più complicati, avere tutto in un unico file può risultare davvero incasinato e questo si presta ovviamente a molti errori. Allora possiamo con questo pattern dividere l'interfaccia grafica, quindi la finestrella che abbiamo quando lanciamo il nostro main. Ora non so dove me la metta, non importa, lo lanciamo dopo, dalla logica dell'applicazione con il controller che funge da intermediario proprio tra la grafica e il modello. Il modello che contiene sia la logica applicativa che i dati, quindi appunto ad esempio nel proseguio del nostro corso vedremo che nel modello avremo anche tutte le classi relative all'accesso al database. Allora come facciamo a trasformare il nostro il nostro programma? Beh sicuramente possiamo iniziare a creare un nuovo package model che conterrà le nostre classi del del modello. Tasto destro sul progetto, new package, direi manteniamo lo stesso nome di base, quindi it.polito.tdp.indovina numero e ci aggiungiamo un punto model. Quindi creiamo un diciamo un sottopackage, finish, vedete me l'ha creato qui. Dentro questo package posso andarmi a creare una classe, in questo caso il nostro esercizio è molto semplice, quindi il nostro modello sarà formato da una sola classe che possiamo chiamare model. Benissimo. Adesso come detto avremo il controllore, il nostro file fxml controller che fungerà da collegamento tra l'interfaccia grafica e il modello, la logica applicativa. Quindi sicuramente questo file, questa classe controller dovrà avere un riferimento al nostro modello. Fatemi ingrandire un po' il codice. Private model model ad esempio. Lo importiamo, quindi mi posiziono sopra l'errore e faccio import model, la classe che abbiamo appena creato. Quindi tramite questo riferimento il controllore potrà reagire ai click dell'utente ad esempio sull'interfaccia grafica e scatenare del codice, quindi della logica applicativa. Ma adesso questa variabile è vuota, l'abbiamo solo definita. Quindi la domanda è, chi crea questo modello? Dove lo creiamo? Potrei pensare, va bene, questo modello deve essere creato all'inizio, quando il programma viene lanciato. Allora potrei pensare di fare una cosa del genere. This.model uguale new model. Va bene, secondo voi? Datemi un segno così capisco che tutto sta funzionando. Non va bene, ok, mi basta già una risposta, vuol dire che siete collegati. Non va bene, diciamo che non è sbagliato, però concettualmente se noi mettiamo questa riga qui, questa new del modello qui dentro al controllore, abbiamo veramente una relazione troppo forte tra il controllore e il modello, perché la logica del pattern è proprio quella di disaccoppiare i concetti. Noi vorremmo potenzialmente poter cambiare il modello senza dover per forza toccare il controllore. Se noi mettiamo una new qua dentro, dentro al controllore, e poi dobbiamo cambiare il modello, di conseguenza dobbiamo venire anche qui a cambiare ad esempio questa riga. Quindi vediamo che non c'è un disaccoppiamento perfetto, diciamo così. Allora, l'idea è quella che questo modello viene creato dall'esterno e poi viene passato qui a questo controllore dall'esterno. Allora, dobbiamo prevedere di avere un metodo public void, ad esempio chiamiamolo setModel, che dall'esterno riceve un riferimento a un modello, qualunque esso sia, e se lo va a settare nel suo riferimento. Quindi dis.model uguale model, quello che ricevo dall'esterno. E allora dove andiamo a creare questo modello? Beh, direi che il punto iniziale del programma sta nella classe entry point. Quindi noi nella classe entry point, qui, possiamo modificare il metodo start, questo codice, per far sì di, prima di creare la finestrella, creiamo il modello e lo comunichiamo al controllore. Allora, dobbiamo modificare un po' queste linee di codice. Non dovremmo sempre farlo a mano, ve lo ritroverete già fatto nei progetti base, però è importante che capiate la logica di quello che facciamo. Allora, abbiamo detto, qui è il posto giusto per creare un nuovo modello. Come sempre lo importo. Adesso però dobbiamo riuscire a recuperare un riferimento del controllore per potergli passare questo modello. Quindi in qualche modo dobbiamo riuscire a recuperare un riferimento al nostro controllore. Come facciamo? Beh, dobbiamo cambiare un po' questa linea di codice qui. Dobbiamo innanzitutto farci dare un riferimento a uno speciale oggetto di JavaFX chiamato loader e poi da questo loader vedremo che riusciremo a recuperare il controllore. Quindi fxml loader uguale new fxml loader tra parentesi andiamo a copiarci quello che stava qui in questa istruzione. Faccio ctrl x, ctrl v diamo un nome a questa variabile e recuperiamo il riferimento al loader. Grazie a questo oggetto che fa parte di JavaFX è un oggetto standard della libreria possiamo recuperarci innanzitutto il nodo radice quindi al posto di utilizzare questo metodo statico adesso usiamo il loader che abbiamo appena recuperato loader.load ma soprattutto creiamo sempre la scena va bene queste righe possiamo lasciarle così come sono soprattutto dicevo dal loader possiamo darci possiamo farci dare un riferimento del controller che è impostato per questo programma loader.getcontroller vedete c'è un metodo che ci restituisce proprio il riferimento al controller e allora noi con questo possiamo andare a dire ok senti questo è il modello che ho creato per te controller punto set model il model di cui abbiamo fatto la new fine qui manca penso un punto e virgola e dovrebbe funzionare facciamo una prova non dovrebbe dare nessun errore non abbiamo fatto niente di nuovo cioè sull'interfaccia grafica però almeno vediamo se se da errore oppure no ovviamente devo lanciare il main tasto destro la NES java application non sembra ci siano errori non so perché non minanci la finestrella oggi non è giornata però non sembra ci siano eccezioni quindi possiamo andare avanti va bene Mario chiede profi metodi load e get root fanno la stessa cosa sì fanno la stessa cosa fanno la stessa cosa sono solo due modi diversi di arrivare allo stesso risultato in questo modo passando dal loader però riusciamo anche a ottenere il riferimento al controllore quindi è per questo che abbiamo scelto questa via Antonio chiede potrebbe mostrare nuovamente il metodo set model certamente nel controller innanzitutto ho definito una variabile un attributo del controller modello e poi ho previsto un metodo set model che può essere richiamato dall'esterno ad esempio dall'entry point per associare il modello ok adesso però dobbiamo usare questo modello cioè dobbiamo in questo caso prendere le cose la logica applicativa che avevamo inserito alla rinfusa nel nostro controllore e trasportarla nel modello allora qual è qui la logica applicativa beh sicuramente le variabili di stato chiamiamole così fanno parte della logica applicativa quindi tutte queste cose qui stanno bene probabilmente nel nel modello le vado a prendere le taglio command x e le vado a inserire come attributi del del nostro modello poi se torniamo qui vediamo che noi abbiamo in sostanza due metodi principali che definiscono una partita quello per iniziare una nuova partita questo qui e quello per fare un tentativo allora nel nostro modello avremo probabilmente un metodo appunto che dal punto di vista della logica applicativa da e là a una nuova partita allora vengo di qua e mi crea un metodo pubblico per adesso direi di definirlo void cioè quando clicco su nuova partita non credo io debba ritornare nessun risultato nuova partita che cosa farà questo metodo beh qui vediamo che faceva due cose gestiva l'inizio della partita e gestiva l'interfaccia beh allora la gestione dell'interfaccia rimane qui nel controller la gestione della nuova partita ha senso che finisca di là nel modello quindi command x modello incollo ho chiuso il controller inavvertitamente gestione della nuova partita quindi questo metodo si preoccupa di tirare a caso il numero come abbiamo fatto la scorsa volta il numero segreto reimposta i tentativi fatti a zero e mette questa variabile a true al netto che ci serve oppure no ma comunque questa variabile booleana indica che una nuova partita è iniziata torniamo di qui dicevamo la gestione dell'interfaccia rimane c'è però già subito un problema adesso il controller non conosce più le variabili di stato ad esempio perché fanno parte della logica applicativa vedete qui c'è un errore il controller non sa più che cos'è tmax perché l'abbiamo spostato nel modello e allora come possiamo fare beh tutte le volte che ci serve un qualcosa che è relativo alla logica applicativa dobbiamo andarla a chiedere al modello beh abbiamo il riferimento this.model qui voglio sapere dimmi tmax e quindi possiamo supporre che di là ci sia un metodo get tmax il modello mi dice quanto vale tmax e lui che lo sa quindi se andiamo di qua nel modello dobbiamo predisporre appunto tutti questi metodi di get perché possono essere utili per poi ad esempio stampare dei messaggi a schermo come faccio a farmi creare in modo veloce i getter e eventualmente i setter che mi servono tasto destro source generate getter e setter posso anche scriverli a mano ovviamente però in questo caso magari sicuramente mi servirà tmax magari mi servirà anche sapere nmax e probabilmente anche il segreto cioè quando l'utente vince o perde o soprattutto quando perde dobbiamo stampare a video ok il segreto era questo anche tentativi fatti mi servono per visualizzare in real time sull'interfaccia grafica quanti tentativi mi rimangono in gioco direi che non mi serve genero vedete lui mi ha generato sia i getter che i setter ovviamente in questo caso mi servono i getter non i set non ha senso che il programma dal controller mi vada a modificare il segreto quindi io i setter posso cancellarli e mi tengo solo i get ok quindi torniamo un attimo di là io qua l'ho chiamato minuscolo lo mettiamo maiuscolo ma il concetto è che adesso con questo metodo posso recuperarmi dal modello tmax va bene passiamo al secondo metodo della logica applicativa che è ok facciamo un tentativo va bene torno sul modello e qui sotto public tentativo e ragioniamo un attimo sia sul valore di ritorno che sui parametri beh i parametri sono quelli più facili rispondo prima alla domanda di Lorenzo professore ma non dovremmo scrivere qualcosa come model punto nuova partita sì dobbiamo ancora farlo sì se vogliamo completare subito qui questo metodo ovviamente dobbiamo invocare questo metodo che abbiamo appena creato nel modello this punto model punto nuova partita inizio la partita quindi tutte le righe che c'erano prima le vado a collassare chiedendo al model di fare questo per me inizia la nuova partita qui c'è ancora un errore gettmax ah perché is undefined gettmax ok no bastava salvare va bene grazie per questa segnalazione dicevo ragioniamo sul metodo tentativo beh i parametri sono facili questo metodo riceverà dall'esterno probabilmente il numero che ha inserito l'utente ok ma parliamo un attimo ragioniamo un attimo sui valori di ritorno in questo caso può essere void questo metodo direi di no perché no perché il tentativo è un'operazione che restituisce un risultato cioè banalmente noi dovremmo capire sapere dal controller se questo tentativo era corretto era troppo alto era troppo basso queste sono le tre cose che dobbiamo sapere dal controllore se le dobbiamo sapere vuol dire che il modello dovrà ritornarle in qualche modo un modo per farlo molto semplice potrebbe essere di prevedere un valore di ritorno intero intero con ad esempio questa convenzione se ritorno 0 vuol dire che il numero il tentativo era corretto se ritorno meno 1 il tentativo era troppo basso se ritorno più 1 il tentativo era troppo alto questo potrebbe essere un'idea è una mia idea potrebbero esserci altre soluzioni anche migliori però questo per dire che questo metodo probabilmente ha bisogno di ritornare anzi sicuramente ha bisogno di ritornare qualcosa al chiamante cosa fa questo metodo? fa più o meno quello che faceva faceva qui ma direi che possiamo provare a farlo da zero innanzitutto potrebbe controllare se la partita è in corso perché se la partita non è in corso vuol dire che siamo in uno stato illegale del sistema come facciamo? beh abbiamo creato la nostra variabile in gioco quindi se non siamo in gioco vuol dire che c'è qualcosa che non va vuol dire stiamo provando a fare un tentativo nonostante la partita sia terminata allora in questo caso è un errore qual è il pattern migliore per segnalare al chiamante un errore scatenare un'eccezione scatenare un'eccezione ce ne sono di vari tipi come ho detto prima voce questo in teoria è uno stato illegale del sistema ebbè noi abbiamo una classe per modellare le eccezioni che si chiama proprio illegal state exception possiamo dare un messaggio la partita è già terminata importiamo questa classe sì dobbiamo dire new throw new illegal state exception lanciamo una nuova eccezione oltre a controllare se la partita è in corso ricordiamoci che è fondamentale sempre il controllo dell'input allora noi di qua abbiamo già un controllo questo qui che va a vedere che l'utente abbia inserito nel campo di testo effettivamente un numero e non una stringa ad esempio essendo questo controllo relativo un po' all'interfaccia grafica cioè a quello che scrive l'utente nell'interfaccia grafica può anche stare qui di qua però nel modello potremmo inserire dei controlli aggiuntivi ad esempio potremmo andare a vedere che il tentativo dell'utente ricada proprio nel range previsto tra 0 ed nmax tra 1 ed nmax non mi ricordo quindi potremmo dire che se tra 1 se è tentativo minore di 1 oppure tentativo maggiore di nmax cosa succede qui l'utente ha inserito un numero che va fuori dal range un numero non non corretto anche per questo caso c'è una classe di eccezioni apposta true new invalid parameter exception è un parametro che mi ha dato l'utente che non è valido e qui diamo un messaggio devi inserire un numero tra 1 e nmax importiamo celeste chiede come facciamo a capire quale eccezione sia meglio usare e la risposta è sempre la documentazione quindi andando a vedere la documentazione di java ora io vi sto facendo vedere questi esempi difficilmente andrete nel dettaglio così a definire diverse eccezioni ok però può essere interessante interessante vedere che c'è anche questa modalità di fare le cose potremmo sempre generare una runtime exception per tutti i casi e funzionerebbe lo stesso però così forse è più preciso ok qual è il problema di controllare l'input direttamente qui è che se io domani mi sveglio e voglio aggiungere un controllo aggiuntivo devo andare a modificare questa if e questa if potrebbe diventare chilometrica allora perché non definirci un metodo magari privato della classe che faccia proprio questo controllo quindi un metodo che ritorni un boolean tentativo valido int tentativo questo metodo mi dice se un tentativo è valido oppure no potrei spostare allora questa if qua dentro quindi se il tentativo è minore di 1 maggiore di n max ritorno falso il tentativo non è valido else ritorno vero in questo modo qua dentro la if posso usare direttamente questo metodo if tentativo valido di tentativo if not quindi se non è valido scatena un'eccezione in questo modo questa funzione qui la posso riutilizzare e se devo modificare il mio controllo dell'input lo vado a modificare in un unico punto solo qui Beatrice chiede ma il numero di tentativi non eravamo noi a decrementarlo piuttosto che l'utente o per tentativi intende il numero che ha inserito l'utente no qui per tentativo intendo il numero che ha inserito l'utente i tentativi rimasti li andiamo a decrementare ora noi ovviamente da codice però questo è il tentativo che ha inserito l'utente va bene controllo dell'input fatto anche in maniera abbastanza credo furba allora siamo qui quindi il tentativo è valido cosa faccio? un po' quello che abbiamo fatto la volta scorsa nel controller quindi vado ad incrementare i tentativi fatti di spunto tentativi fatti più più se sono arrivato a tmax ovvero se ho esaurito i miei tentativi tmax cosa faccio? beh qui ho la mia variabile in gioco che a questo punto posso usare e posso inserirla uguale a falso in questo modo la prossima volta che questo metodo verrà chiamato non andrà più avanti perché si fermerà qui non sarà non saremo più in gioco e quindi scateneremo un'eccezione guarda che la partita è già terminata va bene ma andiamo avanti controlliamo effettivamente il tentativo quindi if tentativo uguale uguale a segreto abbiamo indovinato abbiamo indovinato quindi anche in questo caso la partita finisce e come detto prima una convenzione potrebbe essere ritorniamo zero al chiamante così il chiamante saprà che abbiamo indovinato else if tentativo minore di dis punto segreto convenzione ritorniamo meno uno else abbiamo solo più un caso quindi se il tentativo è maggiore del segreto ritorniamo uno fine salviamo questo è il metodo che ci gestisce un tentativo come prima dobbiamo utilizzarlo a questo punto quindi andiamo nel controller abbiamo detto questo controller errori può stare bene qui perché è relativo a a quello che l'utente inserisce nell'interfaccia grafica poi dobbiamo fare attenzione a lasciare tutte quelle istruzioni che modificano l'interfaccia grafica perché è giusto che stiano qui tipo la modifica del testo di un di un txt rimane qui ok questa ad esempio no perché l'abbiamo fatta di là questa è di nuovo un'impostazione di un testo come vedete qui c'è il problema di prima al posto di usare direttamente le variabili ora dobbiamo chiederle al modello quindi chiediamo al modello tmax dis.model.get tmax e chiediamo al modello anche i tentativi fatti dis.model.get tentativi fatti ottimo qui dobbiamo proprio un po' cambiare le cose al posto di questa if dobbiamo utilizzare il metodo tentativo quindi if dis.model.tentativo del mio tentativo è uguale uguale a 0 quindi se tutto quello che abbiamo fatto ci restituisce 0 vuol dire che ho indovinato e imposto la stringa hai vinto anche qui dobbiamo cambiare questo model.get tentativi fatti questa la togliamo logica applicativa che abbiamo già fatto di là questo lo lasciamo perché è un disable di una parte dell'interfaccia grafica else if this più che far così avrebbe forse più senso fare così guardate int result uguale this punto model punto tentativo in questo modo richiamo il metodo una sola volta e poi nelle if utilizzo la variabile result perché altrimenti andavo a richiamare il metodo più volte e non va bene invece qui lo richiamo una sola volta mi salvo il risultato in una variabile e poi controllo quella variabile quindi else if risultato minore di 0 vuol dire che il tentativo è result scusate il tentativo è troppo basso quindi mi vado a copiare questa stringa qui else l'ultimo caso il tentativo è troppo alto adesso come vedete qui c'era questa parte che segnalava la perdita della partita esatto Giuseppe chiede ma il metodo tentativo non dovrebbero chiamarlo dentro un try è quello che sto per dire dicevo qui avevamo questo questo me questa parte di codice che ci diceva hai perso il segreto era che però non abbiamo da nessuna parte qui no come abbiamo modellato questa cosa nel nostro modello l'abbiamo modellata con un'eccezione cioè noi diciamo all'utente guarda che hai finito i tentativi ed hai perso tramite questa riga di codice qui perché quando arriviamo ad esaurire i tentativi impostiamo in gioco a false e la volta successiva finiremo qua dentro quindi questo è il pattern che abbiamo usato per dire hai perso hai finito i tentativi allora come facciamo come diceva Giuseppe occorre richiamare questo metodo tentativo dentro un try catch e dobbiamo andare a catturare le possibili eccezioni che questo metodo scatena in questo modo possiamo capire se ad esempio la partita è terminata oppure l'utente ha inserito un numero non corretto allora torniamo di qui e definiamo la nostra variabile risultato la definiamo fuori dal try catch e poi dentro al try catch proviamo a eseguire il nostro metodo quindi result uguale il mio metodo tentativo catturiamo le eccezioni che eccezioni potrà mai generare questo metodo beh quelle che abbiamo definito noi quindi o un illegal state o un invalid parameter mi copio l'illegal state exception torno di qui illegal state exception chiamiamola se state exception e poi avremo anche un catch per me la vado a copiare di là perché è un nome troppo lungo invalid parameter due possibili eccezioni chiamiamola PE parameter exception cosa facciamo in questo caso beh noi il messaggio d'errore l'abbiamo già definito qui quindi in sostanza possiamo direttamente stampare il messaggio che abbiamo previsto all'interno dell'area di risultato ad esempio quindi scusate this punto txt risultato punto set text prendiamo il messaggio della eccezione se punto get message e poi facciamo una return perché non dobbiamo più andare avanti c'è stato un problema in questo caso la partita è terminata è perso facciamo la stessa cosa qui set text PE punto get message return in questo caso l'utente ha inserito un numero errato salviamo questa parte la possiamo eliminare e direi che dovremmo aver tradotto diciamo così tutto con il pattern model view controller domande possiamo provarlo forse devo rilanciare clips perché non mi fa partire la finestrella fatemi chiudere clips un attimo lo rilancio subito Alessandro chiede cosa ha cancellato per ultimo te lo dico subito e vi faccio vedere anche i try catch ok controller ho cancellato da qui sotto la parte che diceva hai perso hai esaurito i tentativi hai perso perché questa parte adesso sta qui cioè quando è che capiamo che abbiamo perso quando il modello ci genera questa eccezione qui ovviamente possiamo migliorare questo messaggio hai perso il segreto era due punti più di spunto segreto il messaggio traeva un po' in inganno ok Lorenzo chiede il set disable quindi non c'è più no dovrebbe ancora esserci se non mi sbaglio eccolo qui eccolo qui set disable a false quando iniziamo una nuova partita e in effetti quando perdiamo dovremmo disabilitare di nuovo quella parte di interfaccia grafica quindi qui legal state exception prima di fare la return dis punto layout tentativo punto set disable true grazie per avermelo segnalato quando perdiamo ovviamente ridisabilitiamo tutto finché l'utente non clicca di nuovo nuova partita Nicolò prima chiedeva può far vedere un attimo i try catch siamo già qui quindi lo puoi vedere qui abbiamo le due eccezioni Beatrice invece chiede può mostrare il metodo tentativo valido certamente il metodo tentativo valido è sul modello quindi è un metodo che restituisce un booleano vero se il tentativo inserito dall'utente è valido falso altrimenti quindi se il tentativo è minore di 1 maggiore di n max ritorno falso altrimenti ritorno vero Manuel chiede dovremmo gestire dice dovremmo gestire anche il caso nel quale l'utente non ha cliccato nuova partita e preme il tentativo perché così credo dia un null pointer exception allora sicuramente è una cosa da testare il modo in cui avevo deciso di farlo io è utilizzare proprio il disable cioè se l'utente non clicca nuova partita la parte di interfaccia grafica che permette all'utente di cliccare su di fare un nuovo tentativo è disabilitata ok e quando si perde quando si inizia una nuova partita la abilito e quando si perde la disabilito di nuovo quindi il caso che dici tu per come è strutturato il programma non può capitare però sono d'accordo che ha senso controllarlo ok se vuoi proprio essere sicuro al 100% controlla anche quel caso Alessandro professore quando vinco mi dà sempre come tentativi fatti 7 non lo so dipende un po' da magari c'è qualche errorino comunque proviamolo così vediamo se vediamo innanzitutto se mi lancia sta benedetta finestrella se ce l'abbiamo fatta è uguale a prima ovviamente solo cambiate la struttura del codice vediamo che funzioni come dicevo l'utente non può fare un tentativo se non clicca nuova partita tentativi rimasti 8 proviamo 50 tentativo troppo alto 25 tentativo troppo alto sto giocando a caso però voglio farvi vedere che se io inserisco 150 in teoria dovrebbe dirmi scatenare un'eccezione catturarla e dirmi tentativo non valido facciamo questa prova ok devi inserire un numero tra 1 e Nmax ora il messaggio fa schifo dovremmo cambiare Nmax con il numero vero ma l'importante è che funzioni e come vedete i tentativi rimasti sono ancora coerenti se torno nel range tentativo troppo alto tentativo tentativo troppo alto quello che per come abbiamo fatto il programma se noi inseriamo un numero fuori dal range non viene contato come tentativo oh sì invece sì viene contato come tentativo no non viene contato vedete è rimasto 4 è una scelta però dipende va bene questa scelta oppure anche altre opzioni ah ok sì forse c'è questo errore cioè proviamo a riniziare la partita dopo il primo tentativo Giovanni dice non decrementa il numero resta 8 e poi diventano 7 al secondo sì forse c'è questo problemino facciamo la prova sì esatto vediamo perché torniamo qui quindi io faccio un tentativo se il tentativo è valido andiamo nel modello se il tentativo è valido incremento i tentativi fatti probabilmente quindi il problema sta di qua sì direi che questa questa stampa va fatta dopo aver eseguito il metodo tentativo cioè i tentativi venivano cambiati nel modo corretto nel modello ma quella che era sbagliata era la stampa quindi dopo aver fatto la prova dopo aver fatto il tentativo cambiamo anche l'interfaccia grafica proviamo poi rispondo alle domande nuova partita 8 tentativi un numero prova ok adesso funziona ha cambiato in 7 vediamo un po' le domande a me se indovino all'ultimo dice 9 tentativi in realtà sbagli i tentativi sì adesso a me il mio sembra corretto magari avete qualche problemino su sull'incremento dei tentativi e il decremento controllate poi con la mia soluzione per vedere che siano allineate Irene dice quando lancio nuova partita non dovremmo anche fargli pulire la textarea della risposta sicuramente sì è una cosa buona e giusta quindi quando faccio la nuova partita pulire la textarea è un'operazione relativa all'interfaccia grafica quindi la facciamo dal controller this punto txt risultato punto set text stringa vuota ad esempio non so se ci sia un metodo clear sì c'è anche il clear è lo stesso Giuseppe prof è normale che Eclipse quando chiamiamo il metodo model tentativo voglia anche un catch exception e oltre agli altri due catch non mi sembra normale però se proprio te lo chiede lo inserisci non è che cambi modo non dovrebbe però se te lo chiede puoi anche inserire un catch aggiuntivo che ovviamente non verrà mai catturato perché il nostro metodo il nostro metodo non le genera Giovanni dice i tentativi vanno in negativo vediamo se solo nel tuo o anche nel mio no probabilmente hai qualche hai qualche differenza con la soluzione di nuovo subito dopo la lezione farò il push controllate con la mia soluzione che sia uguale va bene abbiamo ancora qualche minuto se non avete altre domande potremmo vedere una delle estensioni di questo esercizio che avevamo proposto che è questa qui il programma impedisce che l'utente possa inserire più di una volta lo stesso numero rispondo solo per una domanda Giuseppe chiede non ricadrò sempre in quel catch perché le altre due exception sono figlie di exception no non ricadrà in quella exception perché se io torno sul controller si va in ordine cioè se io qua metto una catch exception e cosa che posso fare benissimo ok è vero che queste due eccezioni sono figlie di exception ma vengono catturate prima queste cioè conta l'ordine quindi se si scatena una illegal state exception finiamo qui e non qui ok quindi conta l'ordine di catch Irene inoltre forse c'è da disabilitare la textarea perché mi pare che l'utente ci possa scrivere sopra mi pareva di averlo già fatto la scorsa volta ma può essere ah sì sì è da disabilitare lo possiamo fare sia da da codice che da forse meglio direttamente da sim builder lo facciamo subito magari tanto per fare l'estensione passiamo anche da sim builder no non passiamo da sim builder ok disabilitiamo quindi purtroppo per il mac devo sempre passare di qui fare file open attenzione questo programma l'ho importato da git quindi non starà nel mio workspace nel mio caso perché ho deciso di mettere tutto nella cartella git vedete qui è il mio workspace eclipse ma il mio progetto avendolo importato da git mi è finito qua dentro indovina il numero source main resources fxml sim eccolo qua e quindi selezioniamo l'area di testo e andiamo a dirgli disable ok ho cercato la proprietà disable la seleziono salvo chiudo per essere sicuro che eclipse si accorga della modifica vado sul mio file fxml lo apro dentro eclipse tasto destro open with text editor ok andiamo a vedere textarea dove textarea disable true ci siamo quindi se lancio non posso più scriverci perfetto dicevamo Manuel ancora chiede dice professore fa fare 9 tentativi anziché 8 anche nel suo ora che ho fatto il test ok è vero magari perché al tentativo 0 fa ancora provare sì dovremmo cambiare ancora quello lo sistemerò prima di prima di fare il push grazie della segnalazione però volevo ancora vedere questa estensione visto che abbiamo alcuni minuti il programma impedisce che l'utente possa inserire più di una volta lo stesso numero come possiamo fare secondo voi quindi siamo qui dobbiamo impedire che l'utente inserisca più volte lo stesso tentativo Alessio dice una lista ok un array list con i tentativi ci può stare però secondo me potresti trovare una soluzione più furba anche in relazione a quello che abbiamo visto la scorsa volta ora è vero che qui stiamo parlando di insiemi di dati piccoli ma come Manuel dice giustamente un set andrebbe molto meglio perché andrebbe molto meglio beh perché io se non sbaglio la vostra idea è quella di avere un insieme di numeri che l'utente ha già approvato ad esempio in una lista e poi ogni volta andare a vedere in quella lista se quel numero c'è già ok se c'è già vuol dire che l'ha già l'ha già utilizzato visto che dobbiamo fare tante ricerche meglio un set di una lista perché un set come abbiamo visto la volta scorsa il metodo contents del set è immediato basato sugli hash code andiamo direttamente a beccare l'elemento che ricerchiamo senza dover scorrere tutta la struttura dati così come succede per le liste una mappa dice Lorenzo beh una mappa è fin esagerato qui stiamo modellando dei numeri semplici possiamo far finta che il nostro numero sia proprio la chiave che vogliamo andare a ricercare quindi nel mio modello posso definirmi un set di che cosa di interi tentativi importo set attenzione integer la classe integer non int anche perché non ve lo fa fare però è importante integer perché ci saranno degli oggetti quindi la classe integer ha il suo hash code già definito ok non dobbiamo ridefinirlo per le classi integer string c'è già funziona già bene di suo quando clicco una nuova partita vado a crearmi ogni volta un nuovo set uguale new hash set di integer di integer così che ogni volta comunque viene sovrascritto quando clicchiamo nuova partita anche se siamo anche se siamo alla seconda partita il set di prima viene distrutto e ne viene creato uno nuovo vuoto poi tutte le volte che faccio un tentativo e questo tentativo è valido oltre ad incrementare i tentativi fatti vado a salvarmi diciamo così la storia delle mie giocate quindi vado a mettere nel mio set dis punto tentativi punto add tentativo ok qui mi salvo la storia ma devo anche controllare di non rigiocare lo stesso numero allora vedete che qui torna molto utile il metodo tentativo valido che abbiamo definito prima ora mi serve inserire un nuovo controllo beh non vado a modificare direttamente la if cosa che magari dovrei fare in più punti nel programma ma vado semplicemente a modificare il mio metodo che ho creato apposta quindi dico che diciamo così se il tentativo è fuori range ritornerò sempre falso ma ritorno falso anche se è un tentativo già fatto quindi if tentativi punto contents tentativo return false false togliamo pure le parentesi che non servono quindi controllo range controllo la storia delle mie giocate se passo tutti questi due controlli allora posso ritornare true perché il mio tentativo è valido vedete il contents fatto sul set operazione immediata mentre su una lista non lo sarebbe non ce ne accorgeremmo perché qui stiamo parlando di dieci tentativi quindi però avessimo dei numeri più elevati sicuramente ci sarebbe una differenza domande quindi potremmo modificare anche questo messaggio devi inserire un numero tra uno e ne max ma non lo so che virgola e non puoi inserire due volte lo stesso numero vediamo se funziona lancio nuova partita tre tre ok mi dà l'errore che potremmo modificare farlo farlo meglio ma l'importante che funzioni vedete mi ha dato l'eccezione perché ho provato a inserire due volte il numero tre abbiamo ancora cinque minuti magari cerco di capire qual era il problema il fatto è che quando siamo a zero continuo a farmi giocare se non sbaglio quindi potremmo risolverla così se i tentativi sono arriviamo a t max facciamo una return cioè non andiamo più avanti no forse no perché qui dobbiamo ritornare un risultato fatemi lanciare voglio capire bene il problema quindi nuova partita ho otto tentativi inserisco un numero prova va a sette tentativi se questo l'ho già inserito ho ancora tre tentativi un tentativo zero tentativi ok sì quindi qui non dovrebbe più farmi inserire quindi o facciamo una return qui oppure sì meno uno ad esempio no però se facciamo la return lui non scatena più l'eccezione sì brava esatto giustamente Carlo dice t max meno uno scusate ovviamente la soluzione più semplice era questa ma ho una mente contorta e spesso le soluzioni più semplici non mi vengono in mente ok quindi adesso uno due tre quattro cinque sei sette otto perfetto ok direi che è tutto mi scuso ancora per i problemi tecnici ma non dipendevano da me credo e Mario chiede ancora io avevo provato a fare l'esercizio e per far sì che l'utente riceva un messaggio diverso in base all'input ho creato delle nuove classi una per ogni tipo di input le quali andavano ad impostare il messaggio della textarea tramite il controller il pattern MVC però non permette di legare il controller alle classi del modello per cui come posso evitando di scatenare exception gestire il problema dei messaggi che necessariamente devono essere impostati dal controller è un messaggio abbastanza lungo non sono sicuro di aver capito il tuo problema magari ci sentiamo offline scrivimi pure anche in privato mi fai vedere il tuo il tuo progetto magari mi mandi il link a GitHub e e risolviamo Giovanni chiede una curiosità sui bottoni come si fa a correlare l'action al tasto invio per provare più velocemente i programmi bella domanda sicuramente da SimBuilder si può fare mi pare che se tu definisci l'on action di default già dovrebbe beccare l'invio se non è così vado a vedere la documentazione poi eventualmente ti dico Alessandro chiede ah ok ha risposto Mario per noi Giovanni devi spuntare la casella default button ok quindi se lo rendi default button reagisce anche all'invio il mio dubbio è che ci possa essere un solo default button per programma e quindi puoi farlo solo su uno e non su tutti però bisogna fare delle prove Alessandro professore vorrei chiederle una cosa sul branch ma sarebbe più comodo se condividessi lo schermo va bene se vuoi puoi farlo devo solo permettertelo credo vabbè innanzitutto facciamo così stoppo la registrazione intanto la lezione è finita e poi per chi vuole si può fermare per eventuali ancora dubbi quindi stoppo la registrazione e poi la registrazione è finita